Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti in questa trentasettesima puntata del podcast di Marcosbox. Iniziamo la settimana parlando di Blender, che continua a riscuotere consensi e supporto economico da parte di sempre più big del mondo dell'industria informatica. Negli scorsi mesi vi ho parlato ad esempio di donazioni che sono arrivate, supporto economico, ma anche supporto in termini di programmatori, da parte di Epic Games, da parte di Ubisoft, da parte dello studio anime giapponese CAR, quello che sta realizzando Evangelion 3.0 più 1.0, che ha deciso di passare a Blender e di contribuire nel suo sviluppo, e gente che utilizza Blender per i propri prodotti commerciali, che ha bisogno di un software sempre pronto, sempre reattivo, con maggiori funzionalità, e che ha deciso di investire in Blender, perché il sistema di sviluppo open source consente di poter ottenere un software che è perfetto per tutti, se ho necessità per esempio di avere una funzionalità X, la posso implementare essendo open source e posso contribuire nel suo sviluppo, beneficeranno poi tutti quanti, questo è il bello del software libero. L'ultimo grande big del mondo dell'informatica che ha deciso di, diciamo così, donare e quindi di supportare Blender è NVIDIA, ed è l'altro giorno la notizia della decisione da parte di NVIDIA di entrare a far parte della Blender Foundation Development Fund, a livello di Patreon. Questo considererà agli altri due sviluppatori di lavorare sullo sviluppo di Blender, e di mantenere la tecnologia del GPU NVIDIA ben supportata per tutti gli utenti di Blender. Quindi Blender lo fa, NVIDIA lo fa per avere maggior supporto, per attrare sempre più utenti verso le proprie schede video NVIDIA, e ce ne guadagniamo tutti quanti noi utenti che utilizziamo Blender da questa situazione. Ripeto, è la forza del software libero pensorsi che, grazie a questo, riesce a perfezionarsi sempre più, e i benefici ne riguardano tutti. Faccio comunque sempre i complimenti a Blender per essere riuscito a diventare un punto di riferimento negli anni, sia per quanto riguarda il mercato obbistico, che per quanto riguarda il mercato professionale, che si è imposto, non per logiche di mercato, di sponsorizzazione o quant'altro, ma si è imposto per la bontà del software. È un software scritto bene, e la gente inizia ad apprezzarlo, e anche i big iniziano ad apprezzarlo seriamente, quindi iniziano a contribuire nel suo sviluppo e al suo sostentamento. A mio avviso è un faro all'interno del mondo open source, ed è un modello da seguire anche per altri progetti, io spero che in futuro anche altri progetti, come ad esempio LibreOffice, oppure, che ne so, Gimp, soprattutto Gimp, riescano ad attrarre fondi per lo sviluppo, quindi speriamo che anche altri riescano a seguire questa strada. Passiamo adesso al Linux Day. Quest'anno Linux Day si terrà, come ben sapete, il prossimo 26 ottobre 2019, l'argomento di quest'anno è l'intelligenza artificiale, il machine learning e i big data. Anche quest'anno l'associazione Luganega parteciperà al consiglio d'appuntamento del Linux Day, e lo farà con un evento che si svolgerà a Feltre, in provincia di Belluno, presso la sede dell'Istituto Tecnico Negrelli-Forcelli, in via Colombo 11. Direte proprio perché l'hai pronunciato così piano, perché stanno tutte stelle di mezzo, R e L, e quindi mi si arraboglia la lingua, per quel piccolo difetto di pronunciare con le R che c'ho, vabbè, comunque, apriamo e chiuderemo la parentesi in maniera molto rapida. L'evento del Luganega si svolgerà di pomeriggio, a partire dalle 3 di pomeriggio circa, e ovviamente sarà accessibile a tutti i mandi gratuito. Potete partecipare liberamente. Se siete in zona, fateci un salto. Torna questa settimana la rubrica I Mio Setup, dove voi lettori potete condividere la vostra postazione informatica. L'ospite di questa ottava puntata è Pedro, che fa il sistema admin, e su Marcosbox trovate la sua configurazione, che devo dire è molto bella, perché il suo computer è molto bello a prescindere, ma anche è molto prestante. Spero un giorno di riuscire a farmi anche io un computer di questo tipo, perché l'attuale computer, l'attuale Linux machine, è abbastanza vecchiotta, ormai merita il pensionamento. Comunque, se anche voi volete condividere la vostra postazione informatica, vi ricordo che potete farlo inviandomi tutto tramite mail, che trovate su Marcosbox, oppure contattarmi tramite la pagina Facebook, oppure tramite la community di Telegram di Marcosbox, che trovate sempre informazioni su come raggiungerla su Marcosbox. Torniamo a parlare di Richard Stallman e delle vicende legate alle sue dimissioni da parte di Presidente della Free Software Foundation. Non mi dilungo troppo, sapete perché si è dimesso dalla Free Software Foundation, andatevi magari a vedere la vecchia puntata, ad ascoltare la vecchia puntata, o a leggere su Marcosbox il relativo articolo. Che succede? Succede che fino a poco tempo fa Richard Stallman era a capo sia della Free Software Foundation che del GoNew Project. Attualmente si è dimesso dalla Free Software Foundation, ma non dal GoNew Project. Questo fatto di avere a capo lo stesso uomo aveva consentito negli anni una fruttuosa relazione fra entrambi. La Free Software Foundation, come parte del suo impegno nel supportare lo sviluppo e la distribuzione di sistemi operativi completamente gratuiti, forniva al GoNew Project servizi come sponsorizzazioni fiscali, infrastrutture tecniche, promozione e assegnazione di diritti d'autore e gestione di volontari. Adesso tutto è cambiato. Stallman non è più presidente e si devono ridefinire i nuovi equilibri. È stata fatta una dichiarazione congiunta questa settimana sia da parte della Free Software Foundation che del GoNew Project che ha fatto capire praticamente che adesso i due enti e le due entità hanno iniziato a lavorare tra di loro e le nuove leadership stanno ridefinendo le future relazioni tra i due progetti. Speriamo che questo non si traduca in un abbandono della maggior parte dei progetti sosseguiti dallo GoNew Project e vedremo negli prossimi mesi che cosa accadrà perché sarebbe una bella botta a livello economico perdere la sponsorizzazione della Free Software Foundation. Contemporaneamente a quest'annuncio che è stato fatto, questa dichiarazione congiunta che è stata fatta da Richard Suman sulla mail list del GoNew Project e dal sito della Free Software Foundation c'è stata un'altra dichiarazione che è stata fatta da un gruppo di manutentori e sviluppatori dello New Project che nello stesso giorno praticamente ha pubblicato una dichiarazione congiunta nella quale su parole povere ha creato una scura affermando che Richard Suman non possa più rappresentare il progetto New, tutto il progetto New e che sia giunto il momento per i manutentori del progetto New di decidere collettivamente sull'organizzazione del progetto di, voglio dire parolacce, ma di mettere da parte Richard Suman quindi prima hanno indorato la pila dicendo vabbè tante belle cose poi alla fine sono andati dritto al fondo dicendo che appunto Richard Suman non rappresenta più tutto il progetto New e quindi è meglio che se ne va io non sono molto combattuto su questa cosa secondo me questo nuovo attacco alla persona di Richard Suman legittima tutte quante quelle quelle teorie che sono state fatte su come la la social justice warrior abbia preso il sopravvento e si stia sbarazzando di un personaggio ritenuto ormai scomodo come quello di Richard Suman nonostante poi in passato Richard Suman abbia fatto esternazioni ben peggiori ma questa volta questa volta si sono coalizzati tutti quanti per rimuoverlo dal suo incarico da qualsiasi da qualsiasi incarico all'interno del mondo del software libero open source ed è legittimato anche come uomo come come persona come informatico e quant'altro a me dispiace dispiace un casino perché non credo che Richard Suman sia quel tipo di persona anche per me è un grande io ho avuto modo di incontrarlo quando venne a fare la sua lezione il suo discorso quello che fa ogni volta quando viene invitato quando venne a Foggia ebbe anche l'opportunità di stringergli la mano gli chiese anche l'otocofo anche se io dovrei avercela ecco io dovrei avercela più di tutti con Richard Suman perché quel giorno quando all'uscita della parte quando c'è stata la chiusura della conferenza sono andato in disparte da lui e gli ho chiesto una foto o un otocofo e lui non ha voluto non ha voluto accontentarmi non ha voluto farmi l'otocofo perché ha detto se lo faccio e lo devo fare tutti quanti non mi pare giusto ho già detto di no ad altri e quant'altro è un uomo coerente con quello che dice che aveva già detto di no ad altri e quindi non poteva dire di sì a me io ci sono rimasto molto male quella volta comunque io spero vivamente che tutta questa ondata contro Richard Suman passi e che non si venga a utilizzare questa questa vicenda per delegittimarlo completamente e delegittimare anche il mondo del software libero open source bene con questo concluso lunga vita e prosperità a tutti quanti ci ascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di marcosbox ciao 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 Grazie a tutti